Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, a sorpresa, Adobe ha rilasciato una serie di aggiornamenti veramente importantissimi per Fuji. Allora, dunque, era da qualche giorno che il mio software che utilizzo per controllare gli aggiornamenti dei miei Mac, MacBook e i Mac, si chiama MacUpdater, da non confondersi con MacUpdate, MacUpdate è un servizio online che ti ha la possibilità anche di controllare gli aggiornamenti dei tuoi software, ma costa veramente tanto con un abbonamento semestrale. Ho trovato questo software che si chiama MacUpdater, quindi non MacUpdate, ma MacUpdater, che costa una tantum, costa veramente poco, e viene aggiornato abbastanza spesso e rileva tutti gli aggiornamenti che sono necessari al tuo Mac. Dunque, in questo periodo, in questi ultimi giorni, ho cominciato a dirmi che c'era l'aggiornamento di Lightroom CC, Lightroom Classic, Photoshop, poi l'aggiornamento spariva, poi tornava, poi spariva, e mi sono detto, o hanno dei problemi o c'è qualcosa in pentola che sta bollendo. Ed effettivamente è così, perché Adobe ha rilasciato un aggiornamento che sostanzialmente non va altro che a colmare il divario che c'è tra Lightroom e anche Photoshop, Camera Raw, e gli altri software che hanno un sistema di demosaicizzazione dei sensori buyer, più, diciamo, evoluto rispetto ai propri software e ai propri motori. Una tra tutte, una tra tutti, è Capture One, nel senso che effettivamente, anche come si legge su Fuji Rumors, la domanda è, ehi, Adobe, forse troppe persone sono passate a Capture One? Capture One è un software veramente molto, molto, molto bello. Diciamo anche più evoluto, effettivamente, di Lightroom, e anche un pochino più macchinoso, ovviamente. Ma uno dei vantaggi di Capture One è appunto che il sistema di demosaicizzazione dei sensori buyer X-Trans è più elevato rispetto a quello di Lightroom. La demosaicizzazione non è nient'altro, in poche parole, che è la capacità di reinterpretare le informazioni del sensore e attribuire i vari colori al singolo pixel, e di ricostruire, ovviamente, l'immagine dal mosaico dei pixel, quindi creando, effettivamente, il collegamento tra i vari pixel. Ora, questo è un sistema che non viene fatto dalla macchina fotografica, ma deve essere fatto da un software che, appunto, interpreta questi dati. Ognuno lo fa a proprio modo. Molti, moltissimi utenti si sono lamentati di Adobe perché Lightroom non interpreta così bene il, diciamo, la demosaicizzazione di questi sensori. Questo, in pratica, cosa succede? Cosa comporta? Comporta il fatto che la nitidezza e il dettaglio della fotografia vengono meno. Alcune volte non è necessario, forse non è neanche il caso di accorgersene. Se si pubblica tutto su Instagram non si vedono, ovviamente, grandissime differenze. Se si va a guardare un pochino più nel dettaglio e nell'insieme, effettivamente, con certe fotografie si coglie molto di più questa sottile differenza. Tanto più che per vedere le differenze bisogna anche zoomare sulle fotografie. Dunque, tra le varie recensioni, tra le varie prove freschissime, perché ovviamente il tutto è uscito da pochissime ore, c'è quello di Thomas Fitzgerald Photography, riportato da Adobe, che fa un test approfondito delle differenze tra lo standard e questa versione aumentata dei dettagli. Allora, c'è da dire subito una cosa. Com'è questa procedura? Come si fa con Lightroom? Con Lightroom è semplicissima, perché abbiamo in alto una voce a menu che si chiama Foto. Sotto troveremo Aumenta Dettagli. Ci compare una finestra in cui avremo la possibilità di vedere un prima e dopo dell'aumento dei dettagli, zoomato sulla fotografia che abbiamo selezionato. Facendo Applica avremo la creazione di un DNG nuovo che si crea dal nostro RAW Fuji o X-Trans o col sensore Bayer. Questo significa che, attenzione, se abbiamo una fotocamera che non ha un sensore del genere, quindi alcune Canon, Nikon, eccetera, non sarà possibile applicare questo tipo di mosaicizzazione. Quindi, ci ho già provato, viene fuori una scritta così che non è possibile applicare a questa foto il filtro. Ovviamente il tutto può essere fatto in batch, quindi selezionando più di una foto si applica direttamente questa demosanizzazione, quindi sempre nel menu Foto Aumenta Dettagli. In questo caso però non avremo l'anteprima. Piccolo problema. Allora, c'è da dire che intanto altri software del genere c'erano, ovviamente. Quello dell'Iridient è il più famoso, nonché molto molto efficace. Il processo di conversione da formato RAW a DNG, ho provato anch'io, porta via circa 10 secondi. Non è poco. Fatevi due conti se dovete magari convertire 100 o 1000 foto. Comincia a essere veramente tanto tempo. Quindi il processo è molto lento. I commenti che vengono tirati fuori da Thomas Fitzgerald sono Effettivamente non ci sono più artefatti e tra un po' vi farò vedere anche una mia prova. Il processo è molto intenso, quindi effettivamente è molto lunga anche il processo di conversione. Le foto sono molto più pulite e più nitide rispetto all'Iridient X-Transformer. Specialmente nel dettaglio dei colori. Anche i margini sono più dettagliati. Su questo però io ho letto anche diversi commenti che invece sono un pochino più contrastanti. Nel senso che a quanto pare sembra che il software Iridient, l'X-Transformer sia più dettagliato rispetto a questo nuovo sistema di Adobe. Allora, X-Transformer io l'ho usato, lo uso e devo dire che è un po' più macchinoso. Nel senso che ci sono diversi parametri da settare. Cosa che invece con quello di Adobe è un click e basta. Non ho provato sinceramente le differenze. Comunque sostiene sempre Fitzgerald che Iridient è più veloce. Fa un buon lavoro sui file, è un interiore passaggio da sostenere, però comunque ti dà una qualità sicuramente diversa, notevole sulla fotografia. Un dettaglio comunque diverso. Allora, qui Adobe vuole assolutamente colmare il gap che c'è tra i software un po' più avanzati dedicati a Fuji e i propri sistemi. Evidentemente Fuji sta prendendo un pochino troppo piede per essere ignorata da Adobe. E troppa gente evidentemente è passata a Capture One o ad altri software per avere un dettaglio maggiore della cosa. Però non è una cosa mostruosa, sia chiaro. Però se uno è fissato con la nitidezza e il dettaglio è ovvio che questo cambia le carte in tavola. Allora, io vi faccio vedere adesso una mia prova che ho fatto molto velocemente. Allora, adesso voi vedete una fotografia dell'Hollywood Castle, che è a Edimburgo. È una foto, lasciate stare, è una foto che ho provato a fare. Purtroppo la giornata non era al massimo della vita, le linee sono storte, eccetera. Per di più, cosa succede? Che come potete vedere nella parte a destra, quello che vedete di fronte, nella parte destra del palazzo, ci sono dei tralicci. Quindi stanno ristrutturando evidentemente. Io ho zoomato su questi tralicci e ho provato a fare un prima e un dopo della demosegizzazione, dell'aumento dei dettagli di questo nuovo sistema Adobe. Allora, la foto che vedete è questo sistema, è la comparazione tra il dopo e il prima. Alla vostra, se voi guardate lo schermo e guardate la parte sinistra, vedete la parte demosegizzata. Se guardate la parte destra, invece, vedete la parte non demosegizzata, zoomata a parecchio, insomma, molto, molto, molto zoomata. Ovviamente l'immagine è un pochino sgranata, eccetera, però potete vedere che i tralicci dei ponteggi nella zona demosegizzata, nel sistema di aumento dei dettagli di Adobe, sono molto, molto, molto più precisi rispetto alla costruzione della demosegizzazione standard di Adobe Camera, non ho usato Camera Raw, ho usato Lightroom, di Lightroom. Quindi possiamo dire che effettivamente, almeno in questo contesto, nel ricostruire le linee, l'immagine, come potete effettivamente vedere, ma si vede, l'immagine della qualità non è il massimo della vita, perché ovviamente la vedete su YouTube, compressione, eccetera, ma se mettete a schermo pieno, anche se è soltanto in 1080p, potete vedere decisamente le differenze che ci sono tra uno e l'altro, insomma. Cosa non ho detto? Non ho detto che viene creato, sì, ho detto che viene creata un'immagine DNG rinominata con Enhanced, rinominata con lo stesso nome File, trattino Enhanced, e su questo ci potete tranquillamente lavorare. Credo che sia una cosa abbastanza importante da sottolineare, è una notizia, voglio dire, che farà piacere sicuramente a tutti quelli che utilizzano Fuji e che vogliono il massimo del risultato con i file di queste fantastiche fotocamere. Quindi spero comunque di avervi dato una mano nel capire come funziona. Da qui è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!